In 200.000 copie potrai promuovere il tuo libro in tv, nelle librerie, farti conoscere dal grande pubblico. Mi chiamo Altin Rama e sono uno scrittore albanese. Parlaci di questo romanzo. Pronto? Sono Mara Le Monde. Un'esperienza di vita. La mia esperienza di vita. Break open the champagne! Per un grande scrittore ci vuole una grande graffa. Che significa? Non è come pensi. Chi è questo guaglione? Chi è questo guaglione? Amar nita. Dammi stop! Ma come sei riuscito a scrivere un'opera così? Stavolta. Stavolta. Oh no no Ahahahahahahaha